Chions costato alla panchina per dimissioni a Michele Zanutta, Chions che sarà di nuovo di fronte al Cernismo Zane in Coppa Italia semifinale mercoledì prossimo, questo è un obiettivo a cui la proprietà tiene molto, ecco quella è una partita da vincere? Sì, so che la società ci tiene molto, è un grosso obiettivo perché è una situazione storica per il Cernins e cercheremo anche lì, fra una settimana, poco meno di una settimana, di essere pronti. Ecco, tra poco comincia il mercato, si riapre il calciomercato, bisognerà intervenire? Ma adesso è ancora presto, vedremo quando si aprirà il calciomercato, ma comunque per adesso lavoro con questo gruppo, poi vedremo più avanti.